6 punti, 7 partite, 2 in 4. C'è area di crisi, la Serenitana non riesce più a vincere dal 7 novembre scorso. Ma si sappiamo che non è un bel momento, area di crisi dipende da come uno interpreta questa parola. Noi sappiamo che non ci sta girando, oggi è stata una partita particolarmente difficile sia per l'avversario sia per il campo. Siamo partiti titubanti, soprattutto i primi 20 minuti, poi nel tempo la squadra è venuta fuori e è salita. Nel momento in cui dovevamo aumentare la concentrazione, che era subito dopo il vantaggio, invece ne abbiamo perso ancora di più. È un peccato perché ci stiamo lavorando tanto, quasi tutti i giorni, però non riusciamo ancora a farla in maniera giusta. Venivamo da un periodo un pochino particolare, però con l'incontro che abbiamo avuto giovedì con il presidente, credo che ci siano stati dei bei chiarimenti e credo che l'intesa tra tutte le componenti, quindi intendo sia quella dirigenziale, sia quella tecnica, sia quella dei giocatori, è stata ancora di più rafforzata. Poi non dobbiamo trovare alibi su altre cose, noi dobbiamo pensare solo al campo e cercare di migliorare in questa situazione che in questo momento ci sta tanto penalizzando, perché i play-out che abbiamo sono quasi esclusivamente su pari inattive. La vetta si allontana, ma in questo momento la classifica, secondo me, dà spazio ancora a tutto quanto. Noi abbiamo due scontri diretti importanti e credo che dentro di noi ci sia la forza per guadagnare il terreno perduto. Queste sono partite che è difficile creare occasioni da gol e quelle poche che hai dovresti prima realizzarle come hai fatto e poi riuscire a tenerle strette, perché invece non ci siamo riusciti.